Cordaro, lei è un componente del Comitato per lo Sviluppo dell'area gelese. In questi giorni state informando la cittadinanza del referendum confermativo che si terrà il 13 luglio prossimo per entrare a far parte del libero consorzio di Catania. Dove si vota? Si vota nelle sezioni elettorali di appartenenza, quindi ogni cittadino dalle 9 di mattina alle 9 di sera del 13 luglio potrà regarsi nella sua sezione di normale di appartenenza portando con sé la tessera elettorale e un documento di identità e potrà votare in pochi minuti perché c'è soltanto da mettere un sì nella scheda elettorale quindi non si perderà tempo a cercare simboli di partito o preferenze e via dicendo. È importante che si vada tutti a votare perché mentre qualcuno in giro va dicendo che bastano poche migliaia di cittadini che vanno a votare non è così, il referendum sarà valido e avremo raggiunto il risultato soltanto se il 50% più uno dei cittadini andrà a votare quindi dobbiamo andare tutti a votare. Si entererà a far parte del libero consorzio di Catania segnando sì? Segnando sì nella scheda. Questo ci permetterà di essere protagonisti del destino e del futuro di questa città perché finalmente dopo 200 anni riusciremo ad abbandonare l'area depressa di Caltanissetta che finora non ci ha dato granché e ci attaccheremo all'area del Catanese, l'area del sud-est della Sicilia che è un'area economicamente forte e che diventerà ancora più forte nei prossimi anni. Tornando alla percentuale di soggetti che hanno diritto al voto che è necessario raggiungere per entrare a far parte del libero consorzio di Catania e in soldoni possiamo dire più di 35.000 elettori? Sì, all'incirca dai 33.000 in su, quindi circa 35.000 ed è un impegno che ogni cittadino deve prendere per il futuro di questa città. Se il risultato dovesse essere positivo in termini di servizi che cosa accadrebbe? Non ci si dovrà naturalmente spostare nella vicina Catania ma al contrario i servizi dovrebbero essere istituiti qui? Infatti nel giro di qualche mese o di un anno tutti gli uffici che sono tagliati su base provinciale e quindi oggi su base consortile dovranno necessariamente aprire le loro sedi a Gela quindi Gela si ritroverà ad essere capofila di un libero consorzio e ad avere i servizi in città. I servizi parlo di IMS, parlo di INAIL, parlo di azienda sanitaria, parlo di motorizzazione.